Bella brasa, oggi vi faccio vedere come si dovrebbe ordinare il sushi a domicilio, vediamo cosa succede Buonasera, volevo ordinare il sushi a domicilio Sì, mi dica l'indirizzo che scrivo Via Solferino 3 Ok, va bene, mi dica Ok, dammi 10 porzioni di riso saltato, 10 porzioni di tono scottato, 10 porzioni pure di ravioli, un po' di salmone ed un po' d'avogado Già che ci sei, anche gli edamam e per una tempura poco fritta che fa male, tutti i sashimi, tutti i nigiri, intendo proprio tutti quelli che hai riuscito a fare Tutti i futomaki, tutti gli uramaki, tutti gli usomaki e per restare in tema dammi pure te maki Aspetta che non ricordo bene bene cosa manchi, ok ora ricordo, dammi pure te ataki Così da sera siamo tutti ben ridonati, va bene se questa roba è coordinata non ti pago, quindi se tu puoi portarmi tutta questa roba gratis Potrebbe ripetere per favore?